Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Luisa Ragneri sta per tornare finalmente nel grande schermo. Per la prima volta ha svelato che sarà protagonista del film Nuovo Olimpo, diretto da Furs and Hospitac. La pellicola andrà in onda su Netflix dal primo novembre, e ci sono già grandi aspettative per questo nuovo film del celebre regista. Dopo qualche anno passato in sordina dal punto di vista professionale, la Ragneri è pronta a mettersi nuovamente in gioco in questa pellicola. Per anni ho molto combattuto con la cecità di alcuni autori. Ho avuto una carriera all'inizio esplosiva, poi un momento più fermo. Questa rinascita a 50 anni è quasi miracolosa. Non resta ora che attendere il giudizio del suo pubblico, che tra poco più di una settimana potrà ammirare l'attrice nelle vesti di Titti in Nuovo Olimpo. Una rinascita artistica, quella di Luisa Ragneri, che ha fatto molto piacere ai suoi fan più affezionati.